Allora, per la serie Gli artisti si incontrano in tempo di Covid-19 al centro commerciale, ho incontrato nuovamente Antonio Maria Dettori, l'unico, il vero, il grande fotografo internazionale capoterrese. Esagerati, però così è una presentazione notevole. Senti, parliamo di come sta cambiando la nostra estetica al tempo del Covid-19, di come andiamo in giro dal punto di vista ornamentale che è importante per un giovane fotografo e un giovane artista. Ormai in periodo di Covid siamo un po' diventati tutti marziani. Con questi guantini mi sento l'estensione di Topolinia, quindi un po' molto disneyano. Però ci dicono che serve giustamente per proteggerci e per proteggere le persone, noi continuiamo così. La busseruola? Anche in caldo. Serve per non farci abbagliare troppo magari contro i politici, però rimaniamo un po' tranquilli, cerchiamo di rimanere a freno. Quindi siamo tranquilli? Siamo tranquilli. Qualcuno ci tiene al guinzaglio? Speriamo che con il caldo ci facciano levare tutte queste cose, anche perché prevedo che ci saranno notevoli svenimenti. Io sono uno di quelli, attenzione. Ma da fotografo c'è qualcosa di affascinante, di sedutivo in questo new look? Ma assolutamente no, perché non riesco più a vedere dall'oculare con questa mascherina. Quindi si stanno appannando gli occhiali. Va bene. Speriamo di ritornare tutti al più presto alla normalità. Antonio Maria Dettori. Saluta a tutti. L'arte al tempo del Covid-19. Stiamo dicendo soprattutto... E chiudiamo? Una tragedia all'arte del Covid. La tragedia per gli artisti. La tragedia, l'arte al tempo del Covid. Andiamo che devono parcheggiare.